Ben trovati amici del centro meteo italiano, un potente ciclone tropicale si è formato nei giorni scorsi nel Mar Arabico, raggiungendo addirittura la categoria 4 su un massimo di 5. Era dal 2007 che non si sviluppava nella zona un sistema così potente, con i suoi venti medi che sono arrivati a toccare i 240 km orari, con raffiche ancora maggiori. Il super ciclone ribattezzato Chiar ha raggiunto il suo picco di potenza ieri, iniziando progressivamente ad indebolirsi pur rimanendo comunque un categoria 4, con venti medi fino a 215 km all'ora. La sua traiettoria dovrebbe portare il ciclone a virare verso sud ovest nelle prossime ore, trovando condizioni meno favorevoli per poter mantenere la sua potenza. Secondo le ultime uscite dei modelli, Chiar è atteso in prossimità dell'isola di Socotra già alla fine di questa settimana, notevolmente ridimensionato, prima di raggiungere probabilmente lo Yemen declassato a tempesta. Per ulteriori dettagli seguite come sempre sia il nostro sito sia il nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centrometro Italiano.